Con gli arresti di Monsignor Balda e di Franceschi Immacolata-Ciaochi che è stata subito rilasciata siamo a un grande colpo di scena in quella che è stata chiamata la seconda Vatilix perché prima ancora dell'uscita di due libri contenenti documenti riservati che riguardano le questioni economico-finanziarie del Vaticano e della Santa Sede gli investigatori vaticani sono riusciti a individuare quali sono le fonti. Bisogna dire però che questo secondo Vatilix è molto diverso dal primo, quello del 2012 che coinvolgeva il maggiordomo del Papa Paolo Gabriele. Allora si trattava di documenti riservati, trafugati dalla scrivania del Papa in questo caso sembra trattarsi, lo vedremo nei prossimi giorni, di carte e documenti che erano nella disponibilità della commissione che è stata nominata da Papa Francesco nel 2013 e che ha studiato la riorganizzazione economico e finanziaria della Santa Sede dunque qualcosa di molto diverso e documenti nella disponibilità di molte più persone.